Esclusa dalla scuola dell'infanzia perché non vaccinata, protagonista della spiacevole vicenda è una bambina aquilana i cui genitori hanno deciso di portare il caso davanti ai giudici del TAR chiedendo che il provvedimento adottato dalla dirigente scolastica venga annullato. I genitori della bimba non vaccinata si dicono favorevoli ai vaccini ma ritengono di non essere mai stati contattati dalla ASL nonostante i loro solleciti e ora trascinano davanti ai giudici del Tribunale Amministrativo dell'Aquila l'istituto comprensivo al quale la bambina è iscritta, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale. Tra i legali della famiglia c'è l'avvocata romana Alessia Giovannelli che spiega dietro al caso ci sono criticità della legge sull'obbligo di vaccinazione legge che non prevede una rosa di situazioni specifiche che si stanno verificando. È una famiglia che ha portato il proprio figlio presso la sanità pubblica affidandosi alle istituzioni e provvedendo alla prima somministrazione nel 2013 e anche al successivo richiamo. A fronte di questa somministrazione sia della prima che poi della seconda purtroppo il bambino ha avuto delle reazioni diciamo gravi, per fortuna risolte. In seguito alla seconda somministrazione tutte le sintomatologie in sorte con la prima si sono aggravate e quindi i genitori ovviamente hanno avuto ragionevole dubbio che fosse proprio quella la motivazione dell'aggravamento del stato di salute del figlio. Con la seconda figlia proprio in quanto sono ancora in corso degli accertamenti sanitari sul primo genito che non sono facili da svolgere i genitori hanno ritenuto opportuno sospendere sia per l'uno che per l'altro le vaccinazioni. Diciamo che questo è uno di quei casi che purtroppo, e ce ne sono capitati altri, non viene preso in considerazione della legge e questo penso che sia una criticità di questa legge, cioè del decreto legge 73 del 2017 convertito in legge 119 successivamente. Proprio quello di non prendere in considerazione alcune fattispecie specifiche proprio perché essendo una legge in materia di salute avrebbe dovuto essere probabilmente scritta con un po' più di criterio. Abbiamo ovviamente presentato un ricorso al TAR perché la bambina è stata esclusa dalla scuola dell'infanzia come poc'anzi dicevi e i genitori hanno voluto impugnare il provvedimento presso il TAR, ovviamente sul nostro consiglio. Ci siamo difesi ovviamente perché nel merito non c'è in realtà una situazione di irregolarità perché la legge, forse anche proprio per le criticità che dicevamo prima, consente l'accesso a scuola con la presentazione di documentazione e la documentazione che viene richiesta dalla legge e che è stata richiesta anche dalla scuola numerose volte è stata assolutamente fornita. Grazie a tutti.